Salve a tutti, in questo video parliamo dei cavalli su Rust. Dove si trovano? Ebbene, sulla mappa possono apparire in punti casuali, solitamente sono vicino alle strutture, vicino alle strade. Sono diverse razze di cavalli, i migliori, perlomeno i più veloci, sono bianchi e neri, altri hanno diverse caratteristiche, e i cavalli hanno la stamina e la salute. Ecco, come potete vedere, quel fulmine rappresenta la stamina. Se io adesso corro con il cavallo, la stamina va giù, ma attenzione perché, come potete vedere, va giù solamente la parte gialla. La parte un po' più scura rappresenta la stamina massima, che come potete vedere è a metà barra. Quindi bisogna capire innanzitutto che la stamina, se va a zero, si parla della barra, ovviamente non quella gialla, ma la barra globale, il cavallo muore e purtroppo la stamina tende a degradarsi nel tempo, ecco perché noi dobbiamo tenere il cavallo nutrito se vogliamo mantenerlo. Ora lo porto alla mia base e vi spiego altre cose. Allora, l'health del cavallo, appunto la salute e l'energia, si recupera dandogli del cibo. Questo cibo serve sia per recuperare la stamina che per recuperare l'energia, la salute. Se un cavallo muore possiamo anche squartarlo, diciamo così, per prenderli della carne. Allora, qua ci sono le cose da esaminare del cavallo, come potete vedere c'è salute e velocità. E qua posso vedere la velocità, intanto la resistenza e la salute. Se io adesso li do da mangiare, posso andare a incrementare questi valori a seconda di cosa li do da mangiare. Tra i migliori cibi che ci sono per la stamina, ad esempio ci sono le patate, che è anche uno dei migliori per la cura, perché dà 8 di stamina e 12 di cura. Poi la lattina dei fagioli, 6,4 di stamina e 8 di cura, la baretta di cioccolato, la carne cucinata di orso e le zucche, ad esempio, che recuperano ben 20 di salute. Come potete vedere basta tirar fuori l'oggetto da mangiare nei dintorni del cavallo, il cavallo lo mangia. E poi andiamo a esaminare il cavallo e vediamo che cosa è successo, quale valore è stato incrementato. Quindi questo per quanto riguarda il dare da mangiare al cavallo. Ora, dal momento che non saremo sempre logati al server, qualcuno si chiederà come è possibile allora tenere nutrito il cavallo anche quando non ci siamo, semplicemente con la mangiatoia e l'abbeveratoio che adesso vediamo. Allora, in italiano si chiama piazzole abbeveratoio, non ho capito ancora se l'acqua serve, comunque 200 di legno, facilissimo da costruire e lo piazziamo qua nei dintorni della base. Bisogna metterci dentro il cibo e se il cavallo è lì nei pressi lo mangerà. Quindi praticamente quando c'è cibo in questa mangiatoia il cavallo rimane ben nutrito. Adesso la piazziamo. Intanto vi faccio vedere conduci. Quest'opzione serve per farsi seguire dal cavallo. Può essere utile se rimane incastrato nelle rocce da qualche parte. Per far smettere al cavallo di seguirci bisogna ripremere il tasto sul cavallo esamina, ecco qua, e impostiamo smetti di condurre. Ecco fatto, semplicissimo. Per smontare da cavallo basta usare il tasto salto, questo non l'ho detto. Ecco qua la mangiatoia la piazziamo, vediamo un po'. La piazzo qui vicino alle rocce. Allora come potete vedere io ci posso piazzare acqua e cibo, altri oggetti no. Non ho capito bene se l'acqua ha senso, non l'ho visto bere io per ora. Il cibo si lo prende ma l'acqua rimane lì. Quindi non ne ho idea. In realtà quello che importa è il cibo, bisogna piazzarli il cibo nella mangiatoia. Il cavallo ovviamente mangerà. Quindi niente, i cavalli sono molto utili per muoversi a gran velocità per la mappa, però state attenti perché ve lo possono rubare innanzitutto. Ha un inventario, ecco il cavallo, però se qualcuno si avvicina al cavallo e voi non ci siete potrebbe rubare tutto quello che c'è nell'inventario. Questo è quanto. Spero di aver detto un po' tutto quello che c'era da dire. Un saluto a tutti.